quindi doppio appuntamento sul canale perché sono usciti gli headliners team 2 un team succulento lo sapevo che stavolta ci avrebbero regalato delle carte molto più interessanti rispetto all'altra volta quindi ce le andiamo a guardare tutte ci andiamo a spendere anche un paio di parole su Klyber e Malen che so che vi interessano quindi mettetevi comodi, prendete i pop corn perché c'è tanto materiale da andare a vedere cambiamo subito schermata e il primo che ci aspetta è Karim Benzema con sta linguaccia da fuori che mi ricorda un po' Alex Del Piero ricordo come funzionano gli headliners guadagnano più uno di overall rispetto all'ultima carta if motm uscita e si aggiornano di un punto qualora questi giocatori fanno una streak di o 4 o 5 vittorie consecutive non ricordo e comunque prendono un più uno ogni volta che escono if quindi prima carta è buon Karim The Dream che nonostante l'overall 92 da top player comunque parliamo di un giocatore di 1,85m 4-4 con 79 di velocità suddivise in 82 accelerazioni e 77 velocità scatto ma abbiamo un 84 di forza che lo appesantisce tanto sicuramente il buon Karim non è un attaccante in meta dietro ai vari Felix e compagnia cantante presenti in liga anzi probabilmente do al solo Felix perché c'è una moria delle vacche in liga come punte centrali ma comunque non andrei onestamente a farci troppi pensieri su questo Benzema perché non è propriamente in meta attualmente tuttavia le statistiche per quanto riguarda il tiro sono buone passaggio corto ottimo buona anche la freddezza controllo palla dribbling eccetera ovviamente l'agilità vi ripeto 82 molto fake perché risente di quello 84 di forza dopo Benzema passiamo subito alle cose formali abbiamo il buon Son un minuto di silenzio perché ha sboccato il Potm pagandolo oro perché è uscita questa versione qui che è tanta tanta roba parliamo del solito Son con 4 di skill e 5 di piede debole 89 di accelerazione e 92 di velocità scatto 89 di finalizzazione e 91 di potenza tiro ottimo il passaggio corto un po' meno in lungo devastante la freddezza agilità 89 reattività 92 pecca un po' in equilibrio ma Sto Son rischia di diventare un po' come il Potm di FIFA 18 per chi insomma anzi di FIFA 17 scusatemi per chi si ricorderà carta illegale illegale sicuramente una delle più valide di questo gruppone il buon Hongmin quindi sicuramente test superato per lui un bel cacciatore e passa la paura anche magari in tante squadre competitive si potrà vedere questo Son a fargli compagnia abbiamo poi il buon Erling Haaland il classico tronco norvegese 3-3 1,94 di giocatore con 96 di forza questo non si sposta non si muove neanche con la gru peccato perché poi ha 99 di potenza tiro 93 di finalizzazione agilità ovviamente rivedibile con 74 di equilibrio insomma soggetto a morbo di Puppenaz però voglio dire questo magari uno scambiabile in fascia si potrebbe pensare anche di utilizzare anche se quel passaggio 55 lungo insomma parla un po' così ma altrimenti non andrei mai a pensare di comprare il buon Haaland se non il buon Dinu che è fanboy c'ho Dinu se stai vedendo il video successivamente abbiamo un altro cartone il buon Chucky Lozano che per la gioia dei tifosi messicani che popolano la pagina Facebook del Napoli è uscito anche in versione Adliner e diventa devastante 4 di mosse abilità 3 di piede debole peccato parametro un po' critico ma secondo me bypassabile per una carta che ha 99 di accelerazione e 99 di velocità scatto praticamente si smaterializza in mezzo al campo buoni anche i parametri di finalizzazione e potenza tiro che assumono contorni decenti passaggio corto ottimo un po' meno e lungo freddezza 80 che inizia a diventare anche accettabile agilità 98 incredibile con equilibrio 83 reattività 86 87 controllo palla insomma tanta tanta roba al Chucky super super agile da utilizzare in fascia veramente clamoroso secondo me anche in alcune squadre competitive lo vedremo visto che comunque l'Incar Ronaldo è a destra non è che ci sono questi grandissimi esterni quindi il Chucky promosso a pieni voti bella bella carta altra bella bella carta è Teo Hernandez che continuerà a far rinnovare la domanda meglio lui o Mendy vi dico sto Teo inizia a diventare veramente clamoroso però per la questione del body type di cui parlammo l'altra volta questo qua secondo me è un body type perfetto per essere switchato a difensore centrale quindi non so se da terzino lo preferisco a Mendy nonostante questo upgrade ma guardate lì che statistiche ragazzi anche lui 96 di accelerazione 99 di velocità 84 di agilità 91 scivolata 90 contrasto in piedi 83 lettura difensiva freddezza 86 aggressività 82 forza 85 questo sta assumendo piano piano i contorni di un TOTS praticamente solo che siamo a gennaio quindi comunque carta veramente clamorosa sicuramente miglior terzino di serie A ovviamente a mani basse e probabilmente miglior terzino sinistro del gioco assieme a a Mendy che comunque per me ha un punto in più per quanto riguarda body type un po' più insomma agilotto e ibridabilità per quanto riguarda la carta successiva è un'altra carta super super interessante ovvero il buon Leon Goretzka che entra a far parte ufficialmente della Gullit Gang ossia quei giocatori che hanno 80 per tutte quelle che sono le statistiche principali infatti abbiamo 81 in velocità 81 tiro 85 passaggio 86 dribbling 81 difese 85 fisico 1,89 di cristone alto normale che non è un problema 3 di skill e 4 di piede debole buona l'accelerazione la velocità scatto affanna un po' buoni anche i parametri di finalizzazione e potenza tiro anche se non lo userei da cc visto che comunque è un po' pesante in game ottimi passaggi sia il corto che il lungo ottima freddezza agilità 80 non male reattività 91 forza 86 84 di aggressività 83 di contrasto in piedi 78 di lettura difensiva veramente una bella bella carta questo Goretzka deluso dal fatto che non sia stato inserito nei candidati Totti perché probabilmente l'avrebbe meritato ma questo qui è veramente veramente un bel giocatore visto che può linkare volendo un Closterman potrebbe linkare un eventuale Davis Totti quindi big up per questo Goretzka ruolo consigliato ovviamente il cdc o il ciccino un 4-4-2 con una bella ombretta tattica diego carlos che sembra più uniguana in questa foto che inizia anche lui a ritornare un po' ai fasti dell'anno scorso normale alto 1,85 3-4 con 81 di velocità statistiche anche per lui al posto giusto ma il buon diego carlos secondo me in una liga si colloca al terzo posto dopo Varane Jimenez Rule Breaker arriva poi lui davanti a con dei visto che è maggiormente maggiormente fisico sicuramente una bella carta quindi consigliata in termini rapporto qualità prezzo se si riesce a prendere insomma un prezzo conveniente ci sta anche lui con una bella con una bella ombra forza 89 aggressività 88 passaggio corto 82 anche 80 di lungo quindi veramente una bella una bella carta a fargli compagnia abbiamo poi Ings insomma per i meme 1,78 alto alto 3 di mossabilità 4 di piede debole insomma carta che difficilmente vedremo utilizzata peccato perché c'ha pure 91 finalizzazione sta agilità non è che sia granché nonostante sia 1,78 il giocatore con 75 di forza insomma unito a un po' di type un po' esotico insomma non è che questo granché un po' ambigua come carta il buon Danny cosa che non è invece valida per il buon Upamecano al quale mandiamo anche noi un baciotto e sapete quante volte ce lo ritroveremo contro il Weekend League perché questo qua è veramente qualcosa di pazzesco 1,86 normale normale per un giocatore che ha 89 di velocità scatto e 76 di accelerazione quindi vuol dire che magari sul primo passo perde qualcosa per poi recuperare in allungo visto che comunque è 1,86 di Cristiano passaggi incredibili la freddezza non è un problema visto che comunque parliamo di un difensore statistiche difensive impressionanti e poi abbiamo 97 di forza e 87 di aggressività questo praticamente quando vi prende vi cavalca come se stesse a rodeo vi fa roteare come se fosse il torero e lui il bufalo imbufalito veramente un bellissimo difensore questo Upamecano anche in ottica possibile upgrade anche perché linka con Closterman anche perché è francese si possono fare tante cosette interessanti ombra anche per lui stile intesa consigliato tocco ai cambi beh per i meme anche in questo caso secondo me 3 di mossabilità 1,85 piede debole 4 insomma una nazionalità che lo rende abbastanza inibridabile per carità anche veloce buona potenza tiro e finalizzazione passaggi un po' rivedibili 83 di agilità punito da un 85 di forza che quindi lo renderà sicuramente più pesante di quello che in realtà non sembra statistiche poi di agilità un po' così controllo palla dribbling eccetera insomma non è che andrei a utilizzare questo tocco ai cambi piuttosto sempre un bel bamba a quel punto mi sembra molto più valido cartina interessante sempre per la ligand storafigna devo dire la verità perché è un 4-4 l'alto normale di un metro e 74 discreti parametri di velocità ottimo parametro di potenza tiro e discreto di finalizzazione tanta roba ai passaggi agilità equilibrio riattività dribbling freddezza tutti i parametri al posto giusto per quanto riguarda la difesa insomma un po' così una carta che sembra interessante ma che secondo me non risulta né carne né pesce perché il cc con quella velocità non può farlo a difendere da cdc non è che può farlo tanto perché guardate che statistiche c'ha peccato perché era un modo magari chip per poter linkare un Neymar piuttosto rimane molto dietro secondo me a quel Marquinhos che già è uscito Marez carta sbc quindi insomma dal prezzo anche abbastanza elevato per un giocatore che è 5-4 inizia a diventare un pochino velocino e magari inizia a far concorrenza a Lucas base lì a destra a quel salà che per me col treppiede debole è molto rivedibile però non ci andrei a fare foglie per sbloccarlo soprattutto visto che siamo in periodo pretoti e le delle carte potrebbero essere poi utilizzate in questo periodo per altre sbc più interessanti se proprio lo volete sbloccare se lo pagate molto poco ci può stare visto che comunque vi ripeto che inizia a diventare veloce come potete vedere agile sicuramente agile ha anche ottimi passaggi un discreto tiro 94 di agilità diciamo potreste anche pensare di utilizzarlo da esterno da COC a proseguire questi sono i due spoiler di dopo abbiamo buon Gonzalo che esce che da quello che ho capito dovrebbe essere una carta obiettivo 4-4 direi tutto al suo posto ottima velocità ottima potenza tiro un po' meno la finalizzazione buono il passaggio corto un po' meno il lungo buoni parametri di agilità equilibrio reattività la forza un po' così però parliamo comunque di una carta che se ho capito bene è obiettivo per cui vale sempre il discorso carte obiettivo sempre da sbloccare visto che insomma sono gratuite e vi portano magari anche qualcosa da fare in settimana quindi per quanto riguarda gli headliners è tutto e passiamo ad analizzare questi due campioncini che sono usciti il primo è Donnie Malen showdown quindi questo vuol dire che in questa partita tra PSV Ajax chi vince poi riceverà un upgrade Malen me ne avete chiesto in tanti cosa ne penso 1m79 normale basso quindi un work rate molto esotico 4 di mosse abilità e 3 di piede debole criticità per un giocatore che è quasi 1m80 risulta sicuramente molto veloce potenza tiro 82 un po' così passaggio corto buono e lungo molto meno freddezza 79 problema molto grave forza 81 uno che lo appesantisce tanto quindi questo Malen secondo me non ci andrebbe a fare grosse follie visto che comunque si andrebbe ad utilizzare piuttosto da super sub e di super sub buoni ce ne sono tanti come vi ho detto nel video precedente sui super sub offensivi per quanto riguarda invece il suo compagno di merende Cliber questo è clamoroso raga a parte che c'ha una foto cazzutissima che mi imprime una paura se io questo lo incontro di notte cambio strada comunque 1m84 alto normale questo qua probabilmente preso così singolarmente senza pensare che olandese gioca in ere divise il miglior terzino destro del gioco non lo so immaginare se riceve un upgrade e questo qua vi dico non solo da terzino ma può essere anche switchato da difensore centrale e può essere utilizzato anche da super sub come mediano e in più l'utilizzare questo Cliber sblocca un'altra cosa fondamentale ovvero il poter andarsi a sbloccare quel Robin che ho avuto modo di testare vi devo dire che è molto valido è vero che il destro ce l'ha solamente per scendere la mattina dal letto ma se usato con criterio quel Robin è molto sfizioso quindi questo Cliber guardate qua che statistiche c'ha 93 di accelerazione e 91 di velocità scatto anche 88 di potenza tiro per ridere 86 di passaggio corto e 75 di lungo 84 di agilità 86 di freddezza statistiche difensive 85 di lettura difensiva 87 di contrasto in piedi 84 di scivolata 88 forza 90 aggressività quindi io direi di questo Cliber non lasciarvelo scappare anche perché non so secondo me l'Ajax potrebbe anche portarsi a casa la partita col PSB il sub il Der Classiken e quindi insomma prendere pure un bel upgrade e diventare ancora più devastante soprattutto se avete sbloccato Robin questo è un must have totale quindi Cliber super promosso sbloccatelo molto 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 consigliato e ragazzi nulla fondamentalmente per questo video è tutto vi ricordo di lasciare un bel like un commento fatemi sapere cosa ne pensate di questi nuovi giocatori fatemi sapere se avete sbloccato Cliber e cosa ne pensate perché veramente mi ha stupito come carta vi saluto vi ringrazio vi ricordo che trovate in descrizione tutte le info per le live giornaliere e nulla ragazzi non mi resta altro che salutarvi ciao ciao